Bene ragazzi, qui l'ho da giocare con Scribblenuts Unlimited Quindi, allora, togliamoci un po' sto Bubi perché c'è un po' rotto Levati Bubi! Micchia Bubi! Bubi! Ok E andiamo a utilizzare, ragazzi Oh! Tan tan tan! Però aspettate, facciamo la gigante così almeno si vede bene Dorothy Gigante Madonna, guarda che bella che è Guarda che bella Stupenda Dorothy Ok E ovviamente rendiamola anche Scusate, messaggio Merda perché è vero, è tardi stasera Merda! Rendiamola gigante ma anche Guidabile E veloce Guidabile Veloce Volante Molta Olè! Io e Dorothy siamo i migliori Cos'è sta roba? Niente Nonna, cosa vuoi? Assaggi i miei stuzzichini No Non me... Io non mi fido per niente Chiamiamolo un assaggiatore E con assaggiatore intendo un amalgamatore Ok Non basta Allora mangiamoli Consuma Wow No! Sono diventato un hamburger Oh mio Dio! Ma davvero? Leva ti sta a fare Cos'è? Cos'è? Ma vai via Vabbè Comunque te cosa vuoi? Vorrei che qualcuno mi desse qualcosa di romantico Come nei film Come ad esempio un pugno C'è un pugno? Esiste? Oh! Posso darle un pugno Ok qualcosa di ridi romantico Una rosa Spinosa Pericolosa Una puzzola Rossa Non è per niente romantico Io amo Scrivenhouse Perché? A caso questo Ok Colchete di tutti quelli che passano sullo schermo Sono in 3D Occhiali 3D No Perché? Il 3 non me l'ha contato Ah 3D No ma davvero T'è Wow Wow Sì ma Devateli che ci sto vedendo malissimo Diamo lì a lui Se non date due paia amico E quindi che devo fare? Ah forse devo renderlo in 3D? 3D Twin L'ho reso twin Wow 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 Impazzito Non so cosa fare ragazzi Ehm Uomo 3D Perché? Perché me l'ha contato prima? Io sono Occhiali 3D Uomo 3D Fanculo Facciamo allora un uomo Mettiamo sullo schermo Wow Ok fantastico Forse abbiamo finito Andiamo No ancora no ragazzi Ce n'è ancora Ancora uno Incredibile Ce n'è sfuggito uno Questo abbiamo fatto Ah C'è una casetta qua Andiamoci subito Quell'uno Lo troveremo dopo Ora ce l'ha fatto C'è la scuola calamario Ok Donati scusami ma Devo Staccare E cominciare a usare un Carro arrumato Scusami Però è Molto molto più comodo Ok andiamo Te cosa vuoi In cima al pennone Dove Eserci qualcosa Qui fare il saluto Giusto Come una pentola Collosa Wow Perché Qua Perché Non è funzionato Va bene Ok mettiamoci una bandiera Ok ho capito Scusate Vai Ok Wow Che bandiera è Comunque Questo Mettiamo Una bestiola Per la classe Va bene Vai Non basta Ok Non basta Bubi è troppo È troppo Allora mettiamoci Un calamaro Saggio Saggio perché È per la classe Tutti Impareranno qualcosa Da lui Perché non ci entri Sei troppo grosso Un gatto Olè Ok Te Voglio incontrare qualcuno Che sta facendo carriera Ti basta Il papa Intendo La pampa No Ok Allora diamo Il 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 Presidente Obama c'è Obama No Però ti posso dare Un Knock up Ti basta Wow È bellissimo Knock up Ragazzi Incredibile Vedi Smonta Subito 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 Sullo capi Wow È velocissimo Wow È sanca Ballare Lo capi Tirami fuori di qui Ho un grande Ho capi Ho fatto cose incredibili Ok Questa cosa vuole Voglio Voglio far ridere Diamo Diamogli un sorriso Finto Anche se Non è che Fa ridere Un sorriso Finto Ok Però Dei baffi Finti Sì Baffi Finti No Non fanno ridere Non è una Maschera Lollosa E con lollosa Intendo Low cost Maschera Travestimento Vai A dire Gli Anno Atmos Maschera Simpatica Ti basta Simpatica Sì 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 Non basta Prendiamolo simpatico Va Che palle Che è quest'uomo Simpatico Oh È felice Oh È diventato un pagliaccio Un uomo Che è cambiato da così A così Ragazzi Te cosa vuoi allora Vuoi incontrare qualcuno Che sta facendo carriera Il presidente Obama infatti Ti basta Sì Questo Proteggimi dalle palle Avvelenate Diamo Un preservativo Ti basta? Un pesce ratto? Com'è? Ti basta come difesa? No? È un I Pacchi Armato Con i pacchi Intendo Un ariete È un ariete Un palato Ariete Come animale Ti basta? No? Ti do anche un bazooka Un bazooka Ho scritto Con due z Tec Cos'è che vuole Quest'uomo? Proteggimi Dalle palle Avvelenate Cosa ti dice? Agile? Ma cosa sta dicendo Quest'uomo? Imprendibile Impareggiabile Wow Ha funzionato Funziona? Sì Ok Tu? Niente Metti qualcosa Nella mia pentola Per il pranzo Degli Dei Dei studenti Saranno tutti Stra Stra E ancora Stra contenti Vai Io il mio Cos'è? Com'è se basta fare qua? Il mio Oh capi Non i pacchi Ok Non basta È morto Ok Questa roba cos'è? Niente Tu? Questo papà Papà Già che fa schifo Ho bisogno di attrazioni Più interessanti Come Megan Fox E Sasha Gray Peccato che ho scritto Jay Ti bastano? Io Io mi accontenterei Peccato che Intendo il giro Jet Svestita Con del metallo Geode Una Donna Nuda Minchia Cazzo Sarai felice adesso Ok Mi hai Mi hai deluso Ragazzo mio Diamo Diamo Un Fottutissimo Stand PlayStation Ti basta? Planetario Oh guardate Divertentissimo Guarda I pianeti È incredibilmente interessante Ok Planetario Sexy Potrebbe Seme Un Seme No Un gameboy E con gameboy Tiene un gambero No È una Fottutissima Console Si Gioco Ti basta Questo Vuoi Questo Lo fa Schifo Bisogna Trazioni Interessanti Vuota Panoramica Maledetto Maledetto Pezzo Di Merda Ok Fatto No Ancora No Chi manca Perché me ne scordo Sempre qualcuno Porca Puttana Ah Sta a fare qua Oddio Ecco Com'è che funziona Questi qua Sono Quelli Particolosi Sono Le sfide Questi invece Sono le persone In giro Ok Ho capito Adesso Aiuto Studente A vincere Il concorso Scientifico Creando Una Creatura È il mio È il mio Forte Creare cose Che non esistono Vai Tipo Un Bubino Si muovente Di platino È il giugno Dell'annuale Concorso Aiuto Studente A vincere Che In una Forma Di Vita Comincia Dalla Allora Com'è Comincia Oh Merda Comincia Comincia Dando Ok Gli daremo È Un'ameba Deve Deve Nutrirsi Sicuramente Del salame Ma cosa Ma cosa Ci vuole calore Gli daremo Un Fottutissimo Un Bumsen Un Bumsen È quello Che serve Pure un Bokken Non so che la sia Una spada No Ok La spada No Ok Fuoco Direi che la cosa È più ovvia Ahia Wow Che schifo Poi dovete dare Ciò di cui Corpo Ciò di cui Ho bisogno Uno scheletro Uno scheletro E con cosa ho scritto io Vabbè Ossa Tieni Wow Wow Stai veramente Inserirsi Ok Per inserirsi Nella società E servirà sicuramente Una cravatta Tieni No Allora Ne diamo Uno smoking Chi sei frega Non voglio Indossar Vabbè ok Anche noi Wow Wow Un nome? Mettiamo una Lettera Sulla tela Fatto E intendo Della Un assassino Criminale La B No Mettiamole la B D Indovinate No Un bobino Ragazzi Di 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 Bungsan Fatto Anzi no Una P Una E Una N Chissà ragazzi Che parola Sto formando Ok E adesso Guarda che io Ho dato un nome Ah e Premi Interluttore Vai Bene Nato Signore Signori Che cosa Disturbante Ok Vamo Ok Ora ragazzi Voglio Di Voglio Di Nuovo Andare Sulla Mia Bestia Sì Però Voglio Anche Avere Dio Guarda Voglio Anche Avere In Mano Una Una Di Quelle Spade Lì Perché Uno Stupende Un Bokai Adesso Si Che si Può Andare In Giro Fieri Ok Già Fatto Guardate Che Fiero Ragazzi Guardate Che Roba Fighissimo Guardalo Ok Andiamo a Cercare Quello Che Ci Manca Qua Ah Qui Ho Fatto Già Tutte Le Sfile Bene Ok Questo Ho Fatto Tutto Ma Dai Ho Fatto Tutto È Bagato Mi sa Che Questo Di Di Quello Qua Cazzo Non me Lo conta Completo Uffa Vabbè Allora Questo Mi ha Fatto Questo Mi ha Fatto Questo No Attenzione Caserma Di Pompieri Ne Manca Uno Questo Questo È Nuovo Andiamo Rete Di De Flusso Della Capitale Ragazzi Ok Wow Mi sa No ma in acqua Mi sa che il mio capi Non posso usarlo Oddio quello lì è tipo La mafia Ok Sì posso comunque usare il mio capi Che sta affogando Ma chi se ne frega Gli altri pisci Continuano a prendermi in giro Aiutami a mandarli via Tranquillo Ti basta Ti basta avere Una pistola Semi Automatica E intendo Semi Geometrica Tieni Non basta Ok Allora Ti renderò Enorme Oh Scappate Impauriti Questo Sono pronto ad accogliere Una nuova scuola Cosa? Ti do Platone Intendo Plutone No Ti do Una scuola Ok Sono pronto ad accogliere Una nuova scuola Che cazzo significa Questa cosa vuole Niente Questo Niente Cosa c'è di qua? Wow Ho sempre vissuto qui E non conosco il mio specchio Uno specchio? No Si è rotto È quello che c'è dentro Che conta Ma dai Deve esserci in modo migliore Per smaltire questi rifiuti Attacchiamoli allora Vai Io E il mio capi Che fa versi da peco Ora è la mia Qualcosa Distruggeremo La sporcizza Nei mari Oh Questa abbiamo sbloccato un mondo Comporti dal d'amico E io Ok Distruggerò la corda Suppongo Oh no Non lui Non lui La corda Olè Sei libero amico Questo Niente Vamos Ah Sti due mancano Allora creiamo Scusa Una bomba Arma C'è anche C'è anche il dolciume Perché non esplode Ok Facciamo così Ok Ok Wow Ok Ok Però Voglio La mia super arma Chi manca Ah Sta gabbia Salve le aragosti Ingani i pescatori In piena trappola Con altra roba Ci possiamo mettere Come al solito Dei Fagiani Che si trovano spesso In fondo ai mari Vai Fatto Ho ucciso un fagiano Ma Vabbè Minchia Questo è impossibile Io vi fare i fagiani Non bastano Ci metterò Allora dei polli Vai Il pollo Andrà sicuramente bene No Allora Un Granchio Perché non funzionano Eh Mattia Smettete di mangiarvi Voi a vicenda Un cazzo di mostro Ahia No No Il mio capi Il mio capi Delfino Animale Perché come Ah Persona Scusate Ah infatti Ok Sì C'ho Un po' Ragione Allora Stavo pensando Che fosse il re Ok Comunque Devo stoppare qua Ragazzi Non so Cosa Stavo le ragioni Pena Entravo con qualcosa A mangiare Uh Delle Lasagne Vedrebbero bene C'è E questo Io non ho capito Sono pronto Ad accogliere Una nuova scuola Maestro Ma che cazzo Devo fare con te Non lo so Ragazzi Sapiente Sa Perché non c'è Sa Sapiente Sagace Furbo Intelligente Sono pronto Sono pronto Sono pronto Da accogliere Una nuova scuola Cosa 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 Vuol dire Sono pronto Da accogliere Una nuova scuola Consegna Cosa No ma la spada Ridammela No Vieni qua Spada Spada Porca puttana No No Vabbè Saliamo in superficie Ah Siamo qua Oh Due Slenderman Che girano a caso Vabbè Comunque Ok Mollo qua Ragazzi Ci vediamo Nella prossima parte Lasciate un mi piace Un commento Diventate fan Se lo fa Pese Pese Scusate Ragazzi Ciao